24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 Sono contento per la prestazione che ho fatto, se entravamo il primo tempo così in campo potevamo vincere, però la Lazio come sapete è un'ottima squadra e ci ha dato fila da torcere e noi siamo riusciti bravi a portare il punto a Napoli. Siamo una squadra che non muoviamo mai perché abbiamo dei giocatori che sono gladiatori e il primo tempo, ti ripeto, la Lazio è stato bravo a non farci fare le nostre giocate tatticamente non ha fatto una buona cara, poi ne ho trovato il gol su contropiede però noi nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro spirito. Sì, sono contento per la prestazione che ho fatto, mi trovo meglio a giocare un po' spostato a sinistra però ti ripeto, se il mister mi chiede di giocare a sinistra, giocare a sinistra se mi chiede di fare un sacrificio di stare indietro, lo faccio e sono sempre a disposizione della squadra. Sì, noi prima di tutto guardiamo noi stessi, pensiamo a fare dell'ottima prestazione e di vincerele tutte, poi anche se pareggiamo l'importante è non perdere e stare sempre lì in vetta. L'allett fra stessi, pensiamo a fare l'ottima prestazione